Ebbene si ragazzi, il 13 ottobre 2019 mi è stata attivata la monetizzazione da YouTube Prima domanda che potreste farvi 1000 iscritti, 4000 ore di visualizzazione E la prima cosa è che mi chiedono da quanto praticamente ho aperto il canale YouTube 1000 iscritti, 4000 ore di visualizzazione Questi sono i requisiti minimi per essere abilitati ad abilitare la monetizzazione 1000 iscritti li avevo raggiunti tipo qualche mese fa I primi 1000 iscritti li avevo raggiunti ad agosto mi pare Mentre per raggiungere le 4000 ore di visualizzazione ho dovuto aspettare tra altri due mesi Per farvi capire cosa sono le ore di visualizzazione Praticamente poi guardate un video che è di 10 minuti Ne guardate che ne so, tutti i 10 minuti Questi 10 minuti vengono aggiunti al totale dei minuti di visualizzazione Questi minuti di visualizzazione devono diventare ore Queste ore devono diventare 4000 Questo sapete cosa vuol dire? 166 giorni 166 giorni passate a guardare i miei video E' impressionante come è fatto qua Ho già capito come funzionano molte cose Dopo che ho raggiunto le 4000 ore di visualizzazione Io ho fatto la richiesta da YouTube Studio E dopo qualche giorno me l'hanno accettata Inviandomi una mail di conferma del fatto che io In questo momento ho la monetizzazione Posso monetizzare i video Dopo questa mail mi sono ritrovato con tutti i video Col simbolino verde della monetizzazione Quella è stata una bellissima sensazione devo dire Insomma questo simbolo verde vuol dire Che effettivamente c'è la pubblicità in quei video In tutti i video che hanno una durata minore di 10 minuti C'è una pubblicità o all'inizio o alla fine Non sempre Mentre per i video con una durata superiore ai 10 minuti C'è sia la pubblicità all'inizio o alla fine Ma oltre a questo tu puoi decidere Quando mettere la pubblicità C'è proprio un menu su YouTube Studio che ti dice In quali punti tu vuoi aggiungere la pubblicità E ti selezioni il minutaggio e lo aggiunge Non ho capito quante Fino a quante pubblicità puoi mettere Dunque sto facendo delle prove ancora Non ho capito benissimo come strutturare al meglio la cosa Però insomma fino a qua ci siamo Ovviamente più pubblicità ci sono in un video Quindi più voi guardate una pubblicità Più YouTube mi elargisce il denaro Tutti i guadagni possono essere monitorati da YouTube Studio Le entrate stimate nella sezione dati analisi Sezione entrate Ci sono un sacco di statistiche davvero molto interessanti Come esempio le entrate stimate E il CPM Quindi il cost per mile Poi anche la stima delle riproduzioni monetizzate Infatti potete vedere quante volte Una pubblicità è stata vista in un video Nel mio caso 20.000 Cioè è pazzesco come dato 20.000 Va bene Quindi fatte queste premesse Risposto a varie domande Che voi potreste porvi Posso finalmente dirvi Quanto ho guadagnato questo primo mese Con la monetizzazione È arrivato il momento di togliere le censure A questi numeri A queste statistiche Ecco a voi Quanto ho guadagnato il primo mese Con la monetizzazione su YouTube Tra 3, 2, 1 54 euro e 45 centesi No comunque a parte di scherzi Sono abbastanza sorpreso Perché io in base a quello che mi dicevano Quello che sentivo dire su YouTube Pensavo comunque fosse più difficile Per farvi un esempio Efrem con un canale da 5.000 iscritti In due anni Ha fatto 30 euro Quindi possono sembrare pochi Ma in realtà fidatevi che sono tanti Sono abbastanza soddisfatto Nel mio canale Telegram Ho detto che chi avrebbe indovinato la cifra Avrebbe ricevuto un saluto Da me personalmente E salutiamo quindi Regina Nori Che aveva detto 59,50 euro E quindi era quella che si era avvicinata di più Quindi ciao Un saluto da me E basta Grazie a tutti di aver partecipato A questo contest Seguitemi nel canale Telegram Link in descrizione Comunque ragazzi Questi video io li faccio Perché comunque mi piace Essere trasparente con voi E dirvi Non lo fa nessuno Quanti youtuber vi dicono effettivamente Quanto guadagnano Cioè quasi nessuno E a me farebbe molto piacere E spero che comunque Faccia piacere pure a voi Questa trasparenza Cioè non può Che non farvi piacere E ovviamente non c'è bisogno di dirvi Che comunque tutto quello Quello che guadagnano YouTube Sarà reinvestito sul canale Ovviamente Non andrò mai a droga e mignotte Con questi soldi Per farvi capire E comunque tanto per precisare Io non lo faccio Per soldi Lo faccio perché Perché mi piace Perché mi diverte E se si può guadagnare effettivamente Facendo quello che ti piace Perché no Sarebbe fantastico Un giorno riuscire a guadagnare Una cifra adeguata Per comunque Permettersi di fare solo questo Abbiamo questo qua Ma un po' stiamo sfociando In altri argomenti Ultima domanda E potreste porvi Come fanno ad arrivarti Questi soldi fisicamente Hai i tuoi grafici Di entrate stimate su YouTube No? Una volta che arrivi A 70 euro Tu hai l'account AdSense Che è Google AdSense Un servizio di Google Associato al tuo account YouTube E una volta raggiungi La soglia di pagamento Minimo Ovvero 70 euro Queste entrate stimate Si trasferiscono su AdSense Su AdSense A questo punto vedrai Tutte le statistiche Una volta solo raggiunti 70 euro Una volta raggiunti Questi 70 euro Potrai fare il pagamento Sulla tua carta E vedere i soldi Nelle tue mani E oltre a questi soldi Volevo rendervi partecipi Anche di altre entrate Stemmi riguardando il mio lavoro Da social media manager Su YouTube In questo momento Collaboro con Together Price Together Price Ce l'avevo fatto un video Tanti mesi fa Se avessi persi Guardatevelo Comunque Ho firmato un contratto Sentite che professionalità Ho firmato un contratto Mensile con loro E che praticamente per ogni azione Fatta col mio link affiliato Mi arriva una percentuale Di soldi E da appunto Together Price E sono dei soldi Che comunque sono in continua crescita Essendo un contratto mensile Per ogni azione Che viene fatta Con il mio link affiliato Mi danno dei soldi Quindi questa qua È una sorta di entrata secondaria Anche se comunque In questo momento Dovrei essere arrivata A 40 euro circa E quindi sono altre entrate Comunque importanti Mentre per quanto riguarda Altre entrate Provengono dalla mia pagina Instagram Dalla vendita Dalla mia pagina Instagram I commenti della Leotta Per chi mi seguisse In quel profilo Forse sapete Che comunque È cambiata gestione Tra virgolette Comunque non la gestisco più Io ho venduto questa pagina Tra l'altro ho scoperto Che c'è un business Detro le pagine di Instagram Pazzesco Comunque L'ho venduta A 100 euro 100 euro Per 20.000 follower Ci può stare Non ho trovato qualcuno Che chiedesse di più E comunque ho cercato Per un po' di tempo E anche lì Sono abbastanza soddisfatto Perché comunque Da una cosa che è nata dal nulla Sono riuscito a farci Una buona somma di denaro Quindi secondo me Ho fatto abbastanza bene E quindi ragazzi Per questo video è tutto Io spero che voi appreziate Questa trasparenza Nessuno lo fa Appunto l'ho detto prima Quindi se l'avete apprezzata Lasciate l'iscrizione Con l'attivazione della campanellina Un like E un commento E niente Noi ci vediamo In un prossimo video